Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. È stata con Ojan Deniz per un periodo. Esaminiamo il passato di Aiza Aizenturana, che si dice sia innamorato di Murab Oz. Aiza Aizenturana, una delle attrici più apprezzate dell'ultimo periodo, è caduta in agenda come una bomba con le sue affermazioni amorose. È stato affermato che la bellissima attrice, che ha concluso la sua relazione di un anno con Alp Navroz, ha avuto una storia d'amore con Murab Oz. Aiza Aizenturana ha avuto una relazione amorosa con una persona tale che nemmeno la differenza di età di 20 anni tra loro non ha potuto impedire l'amore. Ha iniziato ad avvicinarsi a Ojan Deniz sul set. Ojan Deniz, che ha dato una possibilità ad Aiza Aizenturana per il film Cut the Dangerous, che ha diretto, è la bella attrice. Si è avvicinato durante le riprese e in quel momento è salvato per amore. I 20 anni tra i due hanno causato reazioni sui social media in quel momento. Lodando Ojan Deniz in ogni occasione e lavorando con lui. Questa relazione della bella attrice, che ha affermato che per lei era una grande opportunità, non è durata a lungo. La storia d'amore della coppia è finita poco dopo il completamento del set del film. Ci si aspettava che sposasse Alp Navroz. L'amore del duo, che interpretava i due amanti nella serie tv di Ada Masa, si è trasformato in realtà. Di recente, però, ci sono state segnalazioni di separazione della coppia, che sono insieme da un anno. Si è scoperto che il duo, che ha preferito rimanere in silenzio di fronte alle accuse, dopo un po' si è davvero rotto. La notizia della separazione della coppia, che avrebbe dovuto sposarsi, e persino l'affermazione secondo cui Alp Navroz avrebbe tradito la bella attrice ha sbalordito chi l'ha sentita. Ma ha subito negato che fosse vero. Abbiamo concluso la nostra relazione parlando tra di noi in un quadro di rispetto. Fatto una dichiarazione. Si dice che sia innamorata di Muraboz. I due hanno recentemente chiacchierato tutta la notte in un locale a Curusesme. Alla fine della serata, hanno ballato e Muraboz ha abbracciato Aiza e Isenturan e l'ha salutata. Poi ha salutato Turan alla porta. Dopo questo evento, è nato un nuovo amore? È arrivata la domanda. Anche il fatto che il duo non abbia negato l'affermazione dell'amore ha rafforzato le voci. Puzza presto, giusto? Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e... Non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.